Stanno uccidendo il calcio. State voi burocrati, voi addetti ai lavori, uccidendo il calcio. Lo sport più bello del mondo. Come lo state uccidendo? Beh, quando Ken viene, si vede annullato un gol perché il suo alluce è in fuorigioco o perché si sbraccia, sbraccia per liberarsi dell'avversario. Quando date dei rigori ridicoli, rigori che nella dinamica rivista e rivista al VAR possono sembrare netti ma che in real time, in presa diretta, visti dal vivo allo stadio ma anche in tv non sembrano affatto dei rigori. Oppure annullando dei gol come quelli del Lecce, di piccoli del Lecce a cui è stato annullato il gol vittoria proprio in questa giornata di campionato o ancora per venire all'ultima giornata il rigore concesso all'Inter per Turam. In Inghilterra l'opinione pubblica ma anche gli addetti ai lavori sono inferociti con il VAR perché è lì che sono molto attenti, anche allo spettacolo del calcio si sono stufati. Quindi analizziamo questa cosa in questo video. Prima cortesemente ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere mi piace e, cosa importantissima, commentare con la tua opinione. Io leggo tutti i commenti e cerco di rispondere quasi a tutti quelli che riescono. Si è iniziata con i falli di mano. Per fortuna la regola è cambiata in corsa ma, ad esempio, due stagioni fa fu la stagione dei rigori per falli di mano. Perché? Perché bastava, la regola era qualunque contatto di mano viene punito con il rigore. E quindi erano falli di mano ovunque perché nella dinamica del gioco del calcio le mani non si dovrebbero usare ma le mani fanno parte del corpo e quindi inevitabilmente un attaccante calcio la palla può finire sulla mano. Pensate a quale, poi ci si è resi conto di quanto fosse ridicola questa regola e l'hanno cambiata, ma pensate a quante partite sono state condizionate da una regola così ridicola. Una regola fatta da chi non segue il calcio. Mi spiego meglio, per me già è ridicolo che un difensore non possa fare dei movimenti naturali ma debba difendere con movimenti innaturali per evitare il colpo di mano perché quando deve saltare con le braccia dietro la schiena, quando va in scivolata con le mani dietro la schiena, quando è costretto a difendere con le braccia attaccate al corpo, sì, ci si abitua, ma non è nella dinamica umana del corpo umano staccarsi le braccia. Non ha senso. Eppure la presenza del VAR ha creato questo abominio, da quale non si torna più indietro. E non è bello. Perché? Perché prima che la regola cambiasse, ormai specialmente gli esterni cercavano, non miravano più al cross in aria, ma miravano al cross sulla mano sul braccio del difensore. Non è bella questa cosa qua. E ancora il fuorigioco. Il fuorigioco si è detto deve diventare automatico. E poi in realtà ci sono sempre delle interpretazioni, anche perché, lo abbiamo visto nei casi recenti, e sempre con la Juve di mezzo, che in realtà non c'è niente di automatico. Perché il sistema dice una cosa. Ma chi tara, chi setta il sistema per dirgli considera quel fotogramma piuttosto che quell'altro? Chi dice al sistema, se c'è un, come nel caso del gol del Napoli della scorsa settimana, che senso ha dire al guardaline non sbandierare fuorigioco, lascia finire l'azione. Però poi l'azione non finisce, ricomincia, la squadra segna. E no, lì a quel punto tu lo devi fermare il gioco, perché hai falsato un'azione. Non c'è oggettività. Anche il fuorigioco, sì. Sul fuorigioco è una di quelle regole che andrebbero davvero utilizzate per settare la tecnologia, per settare il VAR, perché aiutano. Ma anche qui è inevitabile che non ha senso nel gioco del calcio valutare un centimetro. Dici sì, la regola dice che un centimetro è fuorigioco. La regola, ma il buonsenso, il calcio, l'essenza del calcio, non può prevedere fuorigioco da un centimetro. Stanno lavorando per cambiare questa norma. Fate in fretta, perché così è uno schifo. Il calcio non è stato creato per questa cosa qua. Il calcio non è... A parte che è troppo complesso per venire demandato a delle macchine. Pensate al tennis, ad esempio. Nel tennis hanno introdotto una tecnologia quasi a prova di bomba come l'occhio di Falco. In realtà in molti tornei, in questi giorni, si stanno giocando le finals proprio qui a Torino e non c'è l'occhio di Falco, ci sono i giudici di linea. Poi certo, c'è la possibilità da parte dei giocatori di chiedere una revisione del giudizio. C'è l'arbitro, ok. Ma, ad esempio, sulla Terra Rossa continua ad esserci il rituale del giudizio. Perché è tennis? Perché da che mondo è mondo? Il tennis su Terra Rossa vede uno, due, cinque, dieci episodi a partita in cui il giocatore ha il dubbio sul segno della palla, va a guardare, chiama l'arbitro che scende e controlla. E il tennis è l'essenza del tennis. L'essenza del calcio è che ci sia un'azione di gioco sportiva, maschia, sì, bisogna dirlo, anche in questi tempi in cui certe cose non si possono più dire, il calcio è maschio, il calcio è contatto, il calcio è quella spinta, quello sbracciare, quel tocco che non può essere fallo se tale non viene percepito in tempo reale, nella visione a occhio nudo. Il calcio è questa roba qua, ma soprattutto il calcio deve avere delle regole chiare, la gente si sta stancando. Se tu al calcio, e qui veniamo al concetto base, se tu al calcio togli la goduria del gol, il calcio è morto, il calcio è finito. Oggi, e io a volte ci casco ancora, perché sei portato a esultare, però già lo fai al 40% della tua voglia, perché ti trattieni, perché dici me lo annullano, arriveremo che ormai non si esulterà più a un gol, perché se io so che tanto da quel gol andranno indietro, frame dopo frame, azione dopo azione, per vedere se c'è un'occasione, un fallo, un minimo fuorigioco, un contatto strano, non è calcio, non è calcio aspettare svariati minuti per sapere se hai fatto gol oppure no, non è calcio. Il calcio è, prendiamo Lecce-Milan, arriva la palla al difensore del Lecce, che in modo maschio, ok, dà contrasto di gioco, si libera dell'avversario, l'avversario fa un minimo cena di protesta, e poi va avanti, fa gol, una rete meravigliosa, tutti esultano, tutti festeggiano, basta, quello deve essere gol, stop, non si può andare a vedere, a ralenti, l'entità di quel pestone, si è fallo, grazie, ma al rallentatore ci sarebbero due milioni di falli, e come dire, introduciamo allora la regola che dopo due falli, è un'ammunizione, dopo quattro è un'espulsione, diventerebbe calcio questo? No, perché diventerebbe una roba in cui le partite finiscono, nove contro nove, non ha senso questa cosa qua, io voglio andare allo stadio, e godere per un gol, o essere triste per un gol, fermo, restando però quelle situazioni, che nascono, facciamo un esempio, per capire che cosa intendo, situazione lampante, c'è una mischia di gioco, la palla va in una zona tipo questa, e dici, no aspetta, andiamola a rivedere, perché, qui potrebbe esserci qualcosa di irregolare, vedo due giocatori che cadono, vado a vedere, perché lì potrebbe esserci qualcosa di irregolare, vedo una situazione di un rigore, come quello che l'arbitro ha dato a Turam dell'Inter, lo vado a vedere, ma lo devo vedere con un occhio diverso, perché lì è evidente che il giocatore va a mettere il piede, contro il ginocchio del portiere per avere fallo, lì deve essere punito, non deve essere dato un rigore, c'è il contatto, sì, ma la prossima volta impari che se il contatto, se lo vai a cercare, non è fallo, non è rigore, è assurdo questa cosa qua, però, ora qual è, io lo vedo che gioco spesso, anche a provocare, sia gli tifosi da U stessi, sia in molti casi gli avversari, mi diverto molto con questi casi da Moviola, e quindi il giochino qual è, il giochino è che tutte le volte, in cui un caso controverso ti dà del VAR, ti dà ragione, allora dici, eh, ma è evidente, c'era il fallo, c'era il contatto, c'era il mano, quando invece lo subisci, no, ma è una vergogna, e no ragazzi, andiamo oltre questa cosa qua, andiamo oltre, visto che, vedete, io voglio cercare di essere, di far passare il mio messaggio, che non è, è già tuo, il ritorno alla discrezionalità dell'arbitro, perché sei della Juve, e ti faceva comodo, posto che non era così, ma, la verità è che, visto che una soluzione non si trova, cioè, si vuole, eliminare l'errore dell'arbitro, perché? Perché dietro il calcio c'è queste emozioni forti, perché dietro il calcio ci sono interessi miliardari, non si riesce, non si riesce, perché anche con il VAR, e con i progressi che sta facendo il VAR, perché la tecnologia ormai è in grado di creare una miriade di simulazioni, di verifiche, non si elimina la polemica, perché spesso quello che è eccessiva elaborazione tecnologica, non corrisponde più all'idea di calcio, e allora, visto che la soluzione non si trova, creiamo delle regole chiare, ma che privilegino l'emozione, dobbiamo tornare a emozionarci, non solo quando ci fa comodo, non è che abbiamo subito il gol, aspetta, aspetta, dai, che magari lo annullano, oppure abbiamo fatto il gol, aspetta, aspetta, dai, non esultiamo che magari lo annullano, che rimarrà sempre, sia chiaro, è quello che voglio dire io, è ovvio che devi andare a vedere se c'è fuori gioco, è ovvio che devi andare a vedere se c'è un grave fallo, ma non deve esistere il fatto che nessuno si è accorto di un fallo, nessuno si è accorto di niente, e tu lo vai a trovare, non deve esistere come succede sempre al VAR, tanto per essere chiari, che ogni nostro gol viene analizzato fotogramma per fotogramma, basta, ma davvero, ma non facciamo questo adegitivo, facciamo una questione di amore per il calcio, facciamo una questione di, ma voi godete ad andare allo stadio a vedere questa cosa, a voi non dà fastidio esultare a metà, è una roba, già ci sono tante cose belle che si fanno, e ok, ci siamo capiti, almeno questa, almeno il calcio, ma possiamo vivercelo con l'emozione di quando eravamo bambini, e vedevamo fare un gol al nostro campione, possiamo tornare a questo per favore, già è pieno di, già andiamo a giocare i mondiali in Qatar, gli giocheremo in Arabia Saudita, già ci sono delle penalizzazioni, contro penalizzazioni per cose assurde, già ci sono degli interessi spesso schifosi nel calcio, possiamo, potete almeno restituirci l'emozione e la magia del gol, solo questo chiedo, solo questo, grazie cortesemente, ti chiedo la tua opinione, perché magari, davvero sono io, magari voi tifosi anche della Juve, perché immagino mi guardiate soprattutto, voi tifosi della Juve, in realtà potete dire, no ma il prezzo da pagare è giusto, ecco, l'interrogativo è, il prezzo da pagare, per avere un po' meno polemiche, che a me poi non sembra che sia così, un po' più di giustizia, giustizia è questo, e siete d'accordo, che questo è il prezzo da pagare, fatemelo sapere, grazie.